Cecilia, sei ancora arrabbiata? Abbiamo finito la punturina, dai! Dai Cecilia, abbiamo finito, amore! Basta, non ne facciamo più per oggi! Eh, bella Cecilia, si arrabbia assai per la punturina! Vieni, ora ti puoi mettere comoda, amore! Vai, amore, brava, bella! Bella, abbiamo finito, amore! Basta punture, basta, tre punture deve fare il GS! Il Sinulox e il Rochefin, vero, amore? Mannaggia! Speriamo che il Sinulox e il Rochefin guariscano la bronchite e l'altro guarisca la FIP, vero, amore? Eppure J-Ax è ingrassato, è arrivato a 3,9 kg, vero, J-Ax? Guardatelo un cavallo per tenerlo, diventa sempre più difficile, vero, J-Ax? Io mordo come un cagnolino, ora mi hanno dato l'omega pet, mi sto leccando tutto, poi non entrerà più nella borsa, sarà veramente difficile, eh? Ora ancora che non è in piena forma, appena diventerà guarito totale, sarà un leone! Già si vede che sta meglio, eh? E la signorina? Pure la signorina sta meglio, vero, amore? Terrorizzata, le punture non gli piacciono per niente, poverina! È vero? Ah, te ne è meno! È vero che te ne è meno!